Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto all'inaugurazione del 730esimo anno accademico dell'Università di Macerata ad accogliere il Capo dello Stato, il Rettore Francesco Adornato. Grande l'emozione e la soddisfazione per la visita del Presidente, che ha voluto testimoniare la sua vicinanza alla città e all'Ateneo maceratese. L'Ateneo nella sua ormai plurisecolare storia ha conosciuto momenti significativi, ma avere il Presidente della Repubblica e un Presidente peraltro così amato non è un evento di tutti i giorni. È una cosa che certamente ci gratifica, ma soprattutto credo che la presenza del Presidente serva alla comunità accademica, ma all'intera città come serve di riflesso all'intero Paese a infondere ancora fiducia in questo percorso di costruzione del futuro rispetto al quale noi insistiamo sempre ad avere fiducia. Molte le personalità illustri intervenute alla cerimonia. Sì, è un appuntamento importante. 730 anni di storia sono un punto forte del Paese e anche ovviamente di questo territorio. Anche un'occasione per riaffermare la centralità delle università che si trovano nelle aree interne e che rappresentano un punto di forza per i territori, ma anche per il sistema universitario nazionale. Noi stiamo vivendo una grande transizione digitale e anche l'esperienza del coronavirus ci ha dimostrato come le tecnologie possono essere un'opportunità. Noi dobbiamo coniugare la nostra grande tradizione universitaria con l'innovazione tecnologica e fare in modo di costruire un'università che sia più inclusiva, più aperta, più internazionale. Abbiamo tutti gli strumenti per farlo e lo faremo anche con degli investimenti significativi da parte del Governo. È molto significativo e importante l'incontro tra le istituzioni e la cultura. In un momento difficile, condizionato dalla pandemia, condizionato dalla risoluzione del sisma ancora nel nostro territorio. È un incontro importante anche e soprattutto perché tocca un tema, quello delle future generazioni, che devono essere formate e accompagnate affinché possano restare qua sul nostro territorio marchigiano e essere la spina dorsale anche dei tempi futuri. È un effetto per me importante, importante per la città, importante per l'università, dato che io sono un sindaco e collaborerò molto con l'università perché credo molto nelle università di Macerata, nelle università del territorio. Per me mi fa onore come sindaco ma sono molto contento per la tornata di ricevere il Presidente.